Eccoci, volevo raccontarvi la mia esperienza in Snap. Tutto è iniziato circa un mesetto fa. Stavo cercando un'opportunità lavorativa da affiancare alla mia attuale. Io sono un'impiegata e lavoro otto ore, ma essendo una mamma separata ho bisogno di un'entrata extra. Quindi cercando in internet sono arrivata sulla pagina di Daniele e ho visto questa bellissima opportunità e l'ho chiamato. L'ho chiamato, ho chiesto informazioni e lui mi ha spiegato questo mondo, Snap. Mi ha spiegato soprattutto che la Snap non è solo un'entrata extra, ma se ci si impegna e si lavora con metodo, si ottengono dei grandi risultati e si ha anche un cambio di vita. Mi ha spiegato anche l'opportunità di diventare un supervisore entro la settimana. Mi ha spiegato cosa vuol dire essere un supervisore, vuol dire avere le provisioni al 50%, le royalty e anche dei bonus. Però avrei dovuto acquistare dei pacchetti. Li avrei potuti anche pagare a rate. Quando ho sentito questa cosa mi sono messa un attimo sulla difensiva non perché non credevo all'opportunità, ma perché avevo paura di non riuscire a vendere tutti questi pacchetti. Quindi ero molto molto scettica e molto dubbiosa. Ho pensato molto a questa soluzione. Appunto mi aveva detto che c'era la possibilità di pagare a rate e quindi con tanto coraggio mi sono buttata e ho fatto la mia prima rata di 250 euro. Devo dire che la scelta non è stata più giusta perché comunque sia nel diventare supervisore mi si è aperta la formazione con l'MB School e con il supporto di Daniele e del team perché è una cosa molto importante. In questo lavoro non si è mai soli. Daniele che è il mio sponsor e il team sono sempre stati presenti in queste tre settimane. Nei miei dubbi, nelle mie incertezze mi hanno sempre aiutato. Ma quello che mi ha aiutato tanto è stato anche appunto l'MB School. L'MB School è una scuola fantastica. Ho fatto la formazione in due o tre giorni dove praticamente trovate, si trova di tutto. Tutorial, come fare i video, cosa dire, cosa non dire. Ti viene spiegato tutto, tutto, tutto. Soprattutto ho seguito le APR, le azioni giornaliere da fare ogni giorno. E facendo passo per passo, seguendo il metodo che mi hanno spiegato io nel giro di 20 giorni sono riuscita a vendere quasi tutti i pacchetti. Me ne manca solo uno. E questo vuol dire che sono riuscita a mettere in parte i soldi per pagare le altre due rate. E in più ho iniziato ad avere i miei primi guadagni. Ed è stato veramente bellissimo. La prima vendita è stata emozionante. È stata emozionante ricevere dopo una sola settimana il messaggio che poi ho anche condiviso su Facebook che il mio cliente aveva perso due chili. È stata emozionante perché è come se avessi fatto del bene. Insomma, è una cosa bella. E quindi sono molto molto felice di questo percorso. E la settimana scorsa, mercoledì scorso ho fatto anche l'inaugurazione del negozio con Daniele. Sono riuscita ad invitare le persone che conosco ma alla mia inaugurazione più che le persone che conosco sono venute persone che ho conosciuto tramite Facebook in questi pochi giorni ma hanno voluto comunque partecipare a questa inaugurazione e mi ha fatto un immenso piacere perché ho avuto supporto da persone che praticamente non conoscevano che non conoscevo, scusate e che hanno voluto partecipare. E soprattutto questa cosa mi ha aiutato anche nelle vendite perché comunque sia è stato comunque un passo a parola. E quindi l'inaugurazione del negozio la consiglio a tutti a tutti, a tutti e consiglio anche di diventare subito un supervisore. A mio avviso, anche se ci sono dei timori ci sono delle, appunto, delle paure perché comunque sia sembra, non è così semplice però alla fine risulta semplice se si segue il metodo se si segue il metodo se si segue cosa fare cosa dire le risultate che arrivano e io sono la testimonianza che in 20 giorni sono riuscita a fare tutto questo e credetemi io non sono una persona che si espone sui social ecco ho iniziato praticamente tre settimane fa e quindi io ve lo consiglio anche perché a mio avviso si entra subito nel vivo non si prendono scuse ma alla fine si prende la responsabilità di dire sì, voglio fare questo lavoro lo voglio fare fino in fondo e ci riesco e ci riesco sì, assolutamente questo è quello che penso io vi ringrazio molto di avermi ascoltato spero di avervi di essere stata utile e grazie grazie mille